Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi, lo vedete dal nostro titolo, parliamo di un luogo non nostro, parliamo di Casa Loro. Quella Casa Loro, secondo uno slogan di un partito dove dovremmo andare a aiutare le persone per non farle arrivare nel nostro paese. C'è qualcuno che effettivamente lo fa tutti i giorni. Oggi parleremo di questo e parleremo però anche di un interessante progetto che si sta svolgendo in Africa, ma anche di un altro appuntamento, invece si terrà a Scandice, questo sabato. Insomma, tanti argomenti. Parleremo di emergenze ambientali e non solo. Lo faremo intanto con D&I, che è l'assessore a Scandice, chi ci segue già la conosce. Buonasera, bentornata. E buonasera anche a Mauro Perini, che è presidente della Waterright Foundation. Buonasera. Buonasera. Allora, parleremo di tutto questo, però l'inizio, l'incipit lo dobbiamo fare su un'altra casa, che è quella che ci unisce tutti insieme, l'Europa, perché oggi è arrivata la bocciatura vera e propria per la manovra finanziaria e economica del nostro paese. Tra l'altro, insomma, anche nella modalità è una cosa innovativa, perché una bocciatura non era mai arrivata, e invece, ufficialmente, alle 15.30, nel corso di una conferenza stampa, Piero Moscovisi ha dato la bocciatura alla nostra manovra economica. La reazione è stata repentina, anche sui mercati. Che cosa significa questo, D&I? Beh, dovevamo aspettarcela, perché, prima di tutto, è una modalità in cui è stata presentata anche questa manovra, con la forza, senza usare i metodi del dialogo, i metodi di confrontazioni, quindi si sono posti anche, dicendo che la varietà è della parte nostra, senza tenere conto di tutti questi partner che fanno parte dell'Unione Europea. Noi comunque sapevamo che arrivavamo a questo. Lui, secondo me, anche ieri lo sapevano, però c'è sempre questo modo di mettersi della parte, dicendo che non è colpa nostra, è colpa loro. Ora vediamo, daranno la colpa anche all'Europa se questa manovra non è falsa. C'è qualcuno che dice, ma questi siano movimenti in vista delle prossime elezioni europee? Non so se Perini voleva rispondere su questa manovra. Lei, come la legge, diciamo, le misure economiche che si stanno portando avanti nel nostro Paese, dal suo punto di vista? No, dal mio punto di vista è che ci sono dei limiti oggettivi alla propaganda. La propaganda permette anche di fare facili consensi, molte volte dà forma e corpo anche a grandi spostamenti di idee e di comportamenti elettorali, come abbiamo visto. Dopodiché i limiti normalmente in chi governa e in chi deve presentare dei bilanci si chiamano numeri. Per cui la forza degli argomenti deve essere sempre anche supportata dall'analisi della fattibilità degli stessi argomenti. È molto suggestivo dire alle persone vi mando in pensione prima, vi do il reddito di cittadinanza, faccio le infrastrutture che mancano. Dopodiché bisogna fare i conti con la compatibilità. Passare dalle parole ai fatti è un pochino più complesso. Vedremo cosa succederà, però c'è anche un tema con cui poi arriviamo anche al nostro argomento. Riparto un attimo da Perini perché dall'agenda del nostro Paese, ma verrebbe da dire in questo caso anche dall'agenda europea, manca un'attenzione particolare nei confronti dell'ambiente. Lo sappiamo che non siamo noi come Europa evidentemente i meno virtuosi in questo senso, però sicuramente qualcosa si potrebbe fare. Siccome pochi giorni fa era arrivato un ulteriore avviso da parte degli scienziati, un vero e proprio warning, allarme, insomma, dice se non si inverte la rotta velocemente ci andiamo a schiantare sostanzialmente e in pochi anni come mai è totalmente assente secondo lei questa discussione dall'agenda politica un po' di tutto il mondo occidentale, diciamo così? Sì, è un fenomeno secondo me da approfondire perché nell'agenda politica è insufficientemente trattato. Così non è in altri luoghi e io credo che la vera svolta fu tentata da Obama, cioè nel dare rilievo e importanza strategica ai contenuti impliciti dell'economia nella transizione verso un modello di sviluppo sostenibile. Cioè finché restano sperimentazioni o azioni modello, testimonianze, militanze, evidentemente restano sotto la superficie delle cose a cui viene attribuita importanza. Dal momento in cui diventa capace di generare una nuova economia pulita, questa sarà sicuramente la svolta. Io credo che sia questo l'auspicio e l'intenzione che è racchiusa negli obiettivi 2030, lo sviluppo sostenibile. Sì, diciamo che quando il concetto di sostenibilità diventa anche un, diciamo una parola brutta, ma un business in qualche modo diventa comunque vantaggioso anche in termini economici, forse quella sarà la chiave per cercare di fare di più. Veniamo o no ai nostri temi, però questo tema è collegato, il tema dello sviluppo ambientale anche di uno sviluppo sostenibile anche in quei paesi, in quei posti dove manca uno sviluppo del tutto, diciamo così. Voi avete portato un progetto da parte del Comune di Scandicci insieme alla Waterhead Foundation, il progetto CAURAL, ce ne vuole parlare? Insomma, lei venne qui a raccontarcelo quando doveva partire, beh, ora la fase è un po' più avanzata, no? Sì, è avanzata, ora siamo entrati nel vivo del progetto, quindi quest'estate abbiamo avviato tutti i lavori e la popolazione, come avevamo detto anche nel mese di giugno, era già pronta perché quando siamo arrivati avevano preparato il terreno, ci hanno fatto un'accoglianza proprio diciamo da re, per dire, perché si erano preparati tra musica, abbigliamento, avevano fatto delle magliette. Questo per dire soltanto, come l'ho sempre detto, quando loro capiscono, abbracciano e partecipano ai processi, ai vari processi, sono loro che portano avanti anche il lavoro che c'è da fare, perché qui noi, ero lì soltanto per una settimana, poi sono andata via, via via ci stanno mandando gli sviluppi dei lavori. Quindi non soltanto abbiamo dato dignità a queste persone, ma abbiamo dato anche un senso di non avere voglia di immigrare, perché qui la maggior parte dei ragazzi andavano via. Quindi ora i ragazzi quando si svegliano la mattina vanno a trovare l'imprenditore, il muratore per dirgli che cosa dobbiamo fare, c'è qualcosa da fare, ci fai fare qualcosa. Quindi io penso che queste sono delle cose concrete, delle cose reali che dobbiamo cominciare a fare vedere. Per quanto riguarda l'ambiente, sulla parte teorica sono state fatte tantissime cose, ma anche quando si guarda qui nelle nostre media, non fanno vedere la realtà come è, perché la gente si sta spostando. Forse è arrivato il momento anche di andare nei luoghi e far vedere perché i ragazzi stanno andando via, perché non c'è nulla, non c'è niente. Perini, per anche geolocalizzare, siamo in Senegal, nella regione di Matam, nei villaggi di Vallele e Sinti Vallele, ho detto bene? Insomma la pronuncia non è perfetta, magari, però diciamo anche che cosa si fa praticamente, che cosa gli si dà da fare a queste persone, cioè prima di tutto insegnare un lavoro e poi insegnare anche a farlo bene, perché anche questo non è scontato, perché uno può dire, sì ma lì manca talmente tutto che l'importante sarebbe comunque costruire qualcosa, invece si può costruire e costruire bene fin da subito, cioè educare a fare le cose in un certo modo. Beh, diciamo che anche il mondo della cooperazione non è estraneo ai fenomeni di cattedrali nel deserto. Noi abbiamo cercato di seguire, fin da quando siamo nati, una cultura del rapporto punto a punto e delle iniziative portate avanti con dei partner locali credibili. Cioè molte volte abbiamo assistito a interventi che dovevano colpire, dovevano fare scena, dovevano realizzare il grande ponte, la grande diga, la grande struttura e poi in realtà il contesto era un contesto che non cambiava perché non c'erano le condizioni di un piano locale di sviluppo. Questo di Scandicci a noi ci è parso già all'inizio, quando fu presentato, quindi parliamo di ormai più di due anni fa, quando fu presentato nelle proprie linee guida, davvero un progetto per certi versi emblematico, perché riusciva a proporre un approccio orizzontale e integrato. Cioè questo che vediamo adesso muovere i primi passi nella realizzazione dell'infrastruttura elementare per delimitare l'area oggetto di intervento, vede l'acqua come motore, ma è motore di azioni che tra loro si dovrebbero poi integrare in un piano di sviluppo locale che parte dall'agricoltura, che tocca la formazione, l'educazione, la sanità, l'energia, per cui ci sono le condizioni per farne un'azione che può generare dei comportamenti virtuosi e anche alimentare una piccola filiera di sviluppo economico, altrimenti tante volte abbiamo assistito a interventi in cui si fa il pozzo, si tira fuori l'acqua e rimane lì e non c'è niente d'altro. E non basta quello a tenere, questo è un punto importante che mi piaceva approfondire con D&A, non basta quello a tenere le persone lì, a costruirli un percorso, un futuro in qualche modo, ma un'occupazione vera e propria che gli dia un motivo per rimanere in quei luoghi. Qual è stato l'approccio? Come hanno risposto la cittadinanza? Come hanno risposto le persone? Anche un approccio dall'esterno che comunque immagino debba arrivare anche con una certa calma, una certa pazienza, insomma bisogna anche approcciarsi in un certo modo, ma qual è stata la reazione? La reazione per quanto ci riguarda è stata positiva, è stata positiva nel senso già dall'inizio, dall'inizio quando abbiamo ideato questo progetto abbiamo condiviso con loro su che cosa inserire nel contenitore, nel senso il progetto è stato scritto diciamo via Skype, via telefono, via WhatsApp, attraverso anche l'ambasciata, attraverso delle persone che mandavamo al villaggio per andare a prendere delle informazioni e il progetto ha portato, ecco perché ci abbiamo messo quasi un anno e mezzo di preparazione, mi ha portato due volte, io nella mia persona ho fatto due viaggi lì per andare a condividere con loro le azioni se andavano bene, perché come abbiamo sempre detto non si possono calare le azioni dall'altro, cioè abbiamo un'idea qui in Occidente, in Europa, in Italia, della cooperazione che loro, perché loro dicono fateci le cose che quando non ci siete possiamo portarli avanti, questo progetto la sua risposta è quella, quindi le azioni l'hanno pensato loro e siamo andati di nuovo a misurare se le azioni che avevamo inserite andavano bene, finché non abbiamo trovato un punto d'accordo, non abbiamo avviato il programma, questo è anche il nostro punto di forza perché ora noi non ci siamo, lo stanno portando avanti e poi abbiamo lavorato anche sull'equilibrio della popolazione perché tantissimi di loro per vari motivi o non si parlavano o c'erano delle gelosie o delle problematiche diciamo interne, siamo riusciti anche attraverso il nome che abbiamo dato a Kaoral a fare in modo che tutti loro si ritrovassero in questo, perché Kaoral vuol dire intesa, armonia, però usato nella lingua è anche un senso di rispetto, quindi ognuno di loro doveva vedersi dentro questo programma ed è così, infatti l'abbiamo visto anche nel film, quando ci sono delle riunioni da fare ci sono tutti i rappresentanti che ci sono, soprattutto gli anziani, perché anche se sono per le donne e i giovani, vanno sempre dagli anziani per dirgli ecco dobbiamo fare questo, che ne dite, quando lo possiamo fare, come lo dobbiamo fare, quindi abbiamo rispettato anche le dinamiche sociali che sono lì e io penso che la fortuna che ha questo progetto è che ha curato la parte umana, ha curato le basi che ci sono senza andare a imporre delle novità che qualche volta serve ma qualche volta non serve a nulla. Perini, quali sono state le difficoltà, poi dopo le chiederò anche a Andiari, le difficoltà maggiori incontrate sia nella parte precedente poi agli effettivi lavori che poi magari nei primi passi pratici si sono svolti lì? Non abbiamo incontrato particolari difficoltà, come tu giustamente sottolineavi quando ci approcciamo a un territorio che è un territorio per molti versi remoto, l'Africa è remota, il Senegal è remoto, la zona dove si interviene con questo progetto è non esattamente centralissima nel Senegal, quindi da questo punto di vista approcciarsi con una cultura del tempo appropriato, del tempo giusto e su questo noi abbiamo sempre nutrito molta fiducia in quella che era una rete di partenariato che se è molto vasta e interessante qui da noi fra Scandicci e Firenze lo è altrettanto in Senegal, per cui è stato anche secondo le prime informazioni che ricaviamo decisivo anche intercettare il livello della società che si occupa diciamo dell'idraulica a livello nazionale che ha portato la sua competenza, le sue attenzioni, quindi non è un'azione isolata che nasce dalla buona volontà del momento e perché Scandicci c'è l'assessore Vendal Serga, no è un lavoro che ha messo insieme in modo convinto, motivato e competente tante risorse, tante energie sia italiane, toscane che del Senegal, per cui ci sono davvero le condizioni a mio avviso per fare un progetto di grande interesse e anche di utilità per la popolazione locale. Questo significa che in questo modo i giovani smettono di immigrare, non illudiamoci, non è neanche questa l'intenzione del progetto, l'intenzione del progetto è quella di perseguire un criterio guida che è quello del diritto all'acqua, del diritto al futuro, di un impegno per far sì che su quelli che sono i diritti primari non ci siano differenze, non ci siano confini, non ci siano esclusioni e da questo punto di vista per quanto riguarda in particolar modo il tema che c'è a noi più caro che è quello del diritto all'acqua, oggettivamente ci sono delle condizioni che sono più sfavorite di altre e questo è inaccettabile e quindi dobbiamo fare il nostro meglio per far sì che queste aree vengano messe in condizione di poter invertire una tendenza che è una tendenza assolutamente inaccettabile da un punto di vista di quello che è la civiltà contemporanea, non è ammissibile che ancora oggi in condizioni diciamo di pieno sviluppo e di estrema opulenza di grande parte del mondo ci siano ancora delle regioni in cui non c'è acqua o quando l'acqua c'è è anche infetta, insomma mi sembra sia una cosa francamente che sia inaccettabile. Tra l'altro insomma dopo li vedremo, magari li passiamo anche da segno a un po' di questi partner che hanno collaborato insomma al progetto, però volevo chiedere una cosa, sempre mi diverto con D&D, anche perché lei è una studiosa di antropologia e quindi come dire anche andare un po' dentro alle questioni proprie sociali delle situazioni che incontra, cioè volevo capire anche, perché ne parlavamo fuori onda qualche tempo fa, di come hanno reagito le donne, la parte femminile diciamo della comunità rispetto a essere integrate in un progetto e rispetto alla parte maschile che poi è quella che operativamente lavorava, ma non solo insomma. Le donne, io come dico sempre, le donne hanno delle strategie, sono bravissime in questo, nel senso sanno di essere i partner di questo progetto, sanno di essere i beneficiari, però sanno che hanno bisogno anche di avere l'appoggio dei figli, dei giovani, degli anziani per poter portare avanti questa cosa. Quindi noi, il programma ci chiedeva di indirizzarci a loro quando dobbiamo, poi sono loro che ci dicono come dobbiamo muoverci, infatti loro ci dicono dobbiamo andare a salutare questo capovillaggio, dobbiamo andare a salutare questo, però alla fine, perché anche questo ci aveva creato all'inizio un po' di problemi, perché gli uomini ci dicevano dove siamo, questo progetto riguarda tutti, e noi gli abbiamo detto sì, il programma riguarda tutti, ma ricordatevi, chi dà una mano alle donne lo dà anche ai figlioli, lo dà anche a voi, quindi il problema non è quello, perché le donne lì avevano bisogno anche di essere un pochino protagonista, nel senso invece di rimanere sempre a casa, a cucinare, volevano anche avere qualcosa di loro, però siamo riusciti comunque a trovare un modo insieme a loro, a implicare anche i uomini del villaggio, è diventato un programma del villaggio tutto, però abbiamo fatto in modo che le donne non sono, non vengono lasciate dietro, perché di solito, anche ora non lo so, i filmati non ci sono, nel momento in cui si stava lanciando il progetto, non so se lo notate, c'erano tutti uomini sparsi, erano sempre davanti a parlare, le donne erano dietro, nel momento in cui dovevano aprire i pannelli, gli hanno detto ci fate passare, sono passati loro davanti e hanno aperto il suo pannello, questo era per dire che ricordatevi, ci siamo anche noi, quindi camminiamo insieme per fare un modo che le cose vadano a buon fine. Insomma diciamo che è un progetto a 360 gradi, in tutti i sensi, perché poi riguarda, come abbiamo detto, vari settori economici, ma anche sanitari e sicuramente della possibilità di approvvigionamento all'acqua, ecco, questa era la... E qui erano le donne che mi chiedevano, ora ci devi spiegare che cosa significa questo pannello, questi colori, così quando vengono la gente noi possiamo spiegare a loro di che cosa si tratta, quindi ho spiegato il simbolo come l'abbiamo creato partendo dai colori della terra, perché questi sono i colori della terra, del posto, quindi ogni partner ha il suo ruolo nel progetto, quindi hanno voluto sapere tutto questo, hanno detto così almeno se ci chiedono sappiamo cosa agire. Diventano anche loro ambasciatrice. Quindi sono anche rispettuoso verso quello che hanno ricevuto, infatti hanno fatto delle canzoni per il progetto dove dicono, tante persone sono passate, però sono pochi quelli che hanno concretizzato e tra quelli pochi ci siamo noi con questo progetto che ora grazie anche a Waterright. Insomma già questo di per sé è un bel riconoscimento. Allora ci fermiamo in cinque minuti, torneremo tra pochissimo perché continueremo a parlare di questo, di altri temi, poi capiremo insomma anche nello specifico cosa fa la Waterright Foundation, oltre al progetto di cui abbiamo parlato finora, ma anche insomma che cosa succederà a Scandici nella giornata di sabato e poi perché no faremo anche qualche accenno alle questioni principali che riguardano il tema dell'immigrazione oggi nel nostro paese, che ormai da sempre, soprattutto dalla campagna elettorale in poi, è uno dei temi fondanti di questo governo, quindi anche di questo parleremo. Cinque minuti e poi torniamo in studio. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. sostenibile, poi i progetti che riguardano la salute, l'energia, l'approvvigionamento energetico, insomma tante questioni, però c'è anche un altro tema piuttosto importante che è un progetto che non è che un giorno si è svegliata e ha detto andiamo lì insieme a Perini e ha detto andiamo lì e facciamo questo, è un progetto che si basa su una rete molto forte che siete riusciti a costruire, che avete costruito sia laggiù in Senegal ma anche con l'Italia con tante partner importanti, ce ne vuole parlare? Infatti un altro valore aggiunto è legato a questa rete di partenariate che abbiamo messo su tra Scandicci e Firenze, quindi abbiamo per quanto riguarda Scandicci la Croce Rossa, la Croce Rossa, c'è l'Humanitas e Misericordia, poi abbiamo l'Università di Careggi, poi abbiamo la Croce Rossa, l'ho già detto, la cooperativa di Legnaia, con anche la collaborazione diciamo molto implicato anche l'agronomo perché l'agronomo ha fatto anche degli incontri via Skype, via Skype con l'agronomo lì in Senegal, quindi si sono già scambiati, quindi per quanto riguarda la parte agricola abbiamo questo partenariato che è molto importante, mentre Croce Rossa, Humanitas e Misericordia, loro si occupano da una parte di raccogliere i materiali per le prime interventi e Careggi saranno loro a coordinare la parte della struttura sanitaria, sì, quindi è tutta una rete di partenariato che per noi è importante perché visto che loro lavorano già sul territorio in questi ambiti, quindi poter collaborare con loro, condividere con loro, poi sono sempre presenti perché ogni tanto facciamo degli incontri, l'ultimo l'abbiamo fatto durante la fiera di Scandicci dove abbiamo usato quello spazio insistezionale per fare una sorta di riunione, per aggiornarsi e pianificare anche le prossime missioni che dobbiamo fare in Senegal, qui abbiamo sia il presidente della Croce Rossa di sezione di Scandicci, Gianni Pompei, c'è Lotti, il presidente dell'Humanitas e di là abbiamo il referente di... Sarebbero troppi, non si offenderanno, una cosa... Della cooperativa. Anche i comuni hanno fatto rete, perché la rete dei comuni esiste già che è l'Ance, l'associazione dei comuni che in qualche modo vi ha fornito un cappello unitario. Anche l'Ance è partner del progetto, anche l'Ance è partner del progetto, quindi il partenariato è molto grande, sì. Sì, Taperini, abbiamo parlato del progetto specifico, però Waterlight Foundation in realtà ha molte, come dire, canali di interesse, canali di azione, ce ne vuole parlare brevemente? Sì, noi la trasformazione dell'associazione monotematica che ha lavorato dal 2005 al 2015 sulla scorta, diciamo, di quella che fu l'intuizione un centesimo di euro per il diritto all'acqua, la trasformazione che è avvenuta nel 2015 in fondazione di partecipazione ha aggiunto altri canali integrati col tema dell'acqua, che sono l'energia, il cibo e la salute, per cui il ventaglio delle azioni e dei progetti che selezioniamo negli ultimi anni ha avuto questo ampliamento e questa modificazione, nel senso che si privilegiano interventi non puntuali e non isolati, ma interventi che possano mettere insieme le criticità del tema dell'acqua con l'energia, del tema dell'acqua con il cibo, del tema dell'acqua con la salute. Devo dire che da questo punto di vista è stata una scelta premiata, tempestiva, perché l'attenzione che è cresciuta sul cibo dall'expo in avanti è sotto gli occhi di tutti, così come è cresciuta l'attenzione sul clima e sul tema legato all'energia pulita. Ci sono applicazioni specifiche che oggi informano il consumatore che si sta spostando quanto ha o meno risparmiato rispetto alla propria impronta ecologica, quindi quali sono le azioni virtuose che ha fatto, eccetera. Si responsabilizza l'utente. Tutto questo lo trasferiamo nella attività di promozione, di opportunità, di conoscenza didattica e educativa degli impianti da Bilancino a Lanconella che ci sono sul territorio per mostrare ai ragazzi, ai ragazzi delle scuole fiorentine e dell'area metropolitana, quanto c'è dietro al gesto più meccanico, spontaneo e abituale che facciamo tutte le mattine nell'aprile Rubinetto. In realtà c'è dietro molto ed è importante che questo venga anche conosciuto e che venga messo in relazione con le criticità di cui parlavamo. Mi veniva in mente quando prima tu, introducendo, dicevi che non c'è sufficiente sensibilità sui temi ambientali, che quando io iniziai un po' a affacciarmi come animale sociale sui temi della politica, Lester Brown dette alle stampe tre minuti a mezzanotte. Tre minuti a mezzanotte intendeva, paragonando l'età della terra alle 24 ore, che mancano tre minuti. Era in 1982-83. Cos'è rimasto di quei tre minuti, visto il ritmo con cui abbiamo accelerato? Ecco, secondo me questa è davvero la questione delle questioni, cioè la riconversione ecologica dell'economia non come un vezzo, ma proprio come un imperativo, un imperativo della biosfera. Tra l'altro sì, la sostenibilità è un po' la parola chiave e poi può riguardare qualsiasi cosa, perché lo si può applicare alle tematiche del cibo, visto che abbiamo quasi raggiunto il 50% del cibo sprecato ogni anno nel mondo rispetto a quanto ne viene consumato, è una cosa incredibile, ogni persona spreca praticamente l'equivalente del suo peso ogni anno in cibo di quello che viene buttato via, è qualcosa di completamente folle, ma lo si può applicare all'acqua, ad esempio ne abbiamo parlato finora, ma lo si potrebbe applicare forse con un po' un'estensione anche ai rapporti sociali, visto che anche quelli avrebbero bisogno di un po' di sostenibilità. Proprio per questo mi dai là per parlare di quello che sabato viene organizzato a Scandicci, una manifestazione dal titolo emblematico, il colore del rispetto, che anche qui mette insieme una grande rete di associazioni, di persone che scenderanno in piazza per che cosa, Andiae? Scenderemo in piazza per colorarla, questa piazza prima di tutto, ma anche per rimettere al centro, diciamo, i valori, il senso della comunità. Il colore del rispetto è legato proprio a questo linguaggio che ormai è sdoganato, che ognuno può permettersi di dire quello che vuole, dovunque, non rispettando anche i luoghi istituzionali. Però abbiamo sentito il bisogno, soprattutto il comitato promotore, quello di rimettere al centro questi valori, questi valori che ci accomunano tutti, che hanno tra di loro i valori bagali dei diritti umani, il rispetto verso l'altro, l'accoglienza, l'interazione tra i popoli. Quindi questo, visto che tutto questo non ha il colore, abbiamo detto, chiamiamolo il colore del rispetto, per fare un modo che la gente si ricordi comunque, benché oggi non abbiamo il governo che ci sta aiutando anche a curare questi aspetti, organizziamoci in piazza, chiamando la gente che crede a questi valori per condividere quei momenti. Non è un corteo, sarà una manifestazione che faremo in piazza. C'è l'adesione di, il comitato promotore è fatto di 18 organismi, come avete visto, associazioni che lavorano nel mondo. C'è Lampi, l'Arci, la Fondazione Fabrica Europa, per dire qualcuno di costo. Libera, ci sono tutti, e poi le adesioni sono arrivati veramente tanti, stanno arrivando ogni giorno, delle singole persone, dei giovani, degli anziani, tutti hanno sentito il bisogno di scendere in piazza per dire forse basta, basta per questa ondata di odio. Anche oggi una mamma alla radio, l'ha messo anche ieri su Facebook, ha avuto l'appello di sua figlia che gli diceva, mamma guarda che questa non ha voluto sedersi accanto a me perché sono scura, una figlia adottata da una dottoressa, queste sono delle piccole cose, ce ne saranno tanti, però io penso che essere sabato in piazza e dire anche che non abbiamo paura, ci siamo e crediamo ai valori, dopo aver visto quello che è successo anche all'odi, la reazione della popolazione. Ci arriviamo, ci arriviamo a questo perché la domanda le volevo fare su questo, intanto però chiedo a Perini una questione che riguarda sempre quello di cui si occupa ma in senso allargato perché lei ha appuntato, prima parlava dell'educazione, sia per quanto riguarda il tema dell'acqua e poi potremmo ampliarlo, il tema dell'educazione è forse fondamentale per cercare di, come dire, per far diventare il nostro paese quello che vorremmo che fosse tra qualche anno, in qualche modo proiettandolo sulle generazioni più giovani, qual è la risposta però volevo capire da parte dei più piccoli rispetto alle tematiche su cui voi cercate di sensibilizzarli. Questa è una verifica che potremmo fare in seguito, nel senso che c'è molto interesse, c'è molta curiosità, come è tipico dell'età. principalmente lavoriamo con la prima infanzia, evidentemente per avere un riscontro immediato è molto più di soddisfazione lavorare con i giovani universitari nei programmi Erasmus che facciamo, sempre legato ai temi del rapporto tra la città, l'urbanistica e in quel caso del progetto Daylight Rivers dei fiumi tombati, però con i ragazzini normalmente l'approccio è quello del uso consapevole della risorsa, cosa può voler dire nel lungo tutto quanto il ciclo, quello che si accade, tutte queste cose, certo, e anche l'utilizzo virtuoso per quanto riguarda l'orto di casa, piuttosto che, cioè favorire il più possibile l'idea della circolarità rispetto alle risorse naturali e su questo abbiamo un team di persone, educatrici, educatori che lavorano. Quello che sempre ti sorprende quando lavori con i ragazzi è la rapidità dell'assimilazione, cioè cose per cui magari ci sono stati necessari mesi e mesi di approfondimento vengono raccolte e metabolizzati in poco tempo, questo diventa uno stimolo costante. Inizialmente il tema ci è stato proposto per far sì che la città conoscesse dal di dentro gli impianti, per cui era un'azione di Publiacqua volta a far conoscere come funziona l'Anconella, perché a Firenze c'è questo piccolo miracolo che si beve l'acqua d'ardo, è una cosa che diamo per scontato, ma è una, diciamo, da un punto di vista di standard di qualità raggiunti, una delle eccellenze europee, indubbiamente. Per cui a questo punto di vista è nata in questo modo. Ci permette di attaccare a questa, diciamo, spina dorsale principale tutti i vari slot che ci possono consentire di parlare anche di cibo, di energia, di rifiuti. Pistole ha fatto un lavoro anche con la società dei rifiuti, per cui è un tema doveroso che non mi sembra che venga letto come uffa che barba. La sensibilità profonda nei confronti della sostenibilità, usando le parole giuste e gli esempi giusti, io credo che si riscontri ed abbia anche un'adesione immediata. Posso fare qualcosa per il mio pianeta? È un bel tema, è anche di sollecitazione intellettuale. Sì, assolutamente. Siamo quasi in chiusura, Andiai, però visto che abbiamo parlato delle giovani di generazione, visto che lei lo voleva anticipare, lei come tema, adesso glielo chiedo io. Il caso di Lodi, dei bambini che di fatto hanno rischiato, perché poi grazie a una grande colletta di solidarietà da parte di Mezza Italia, questo rischio è stato scongiurato, ma rischiavano di dover mangiare alla mensa separati dagli altri, che di per sé qualcuno ha detto sì, ma alla fine qual è il problema? Anche io quando ero piccino mi portavo la merenda da casa e mangiavo da solo lì, non è il problema, mi mangiavo da solo lì, forse il problema è che si mettono i bambini stranieri tutti insieme in una classe separata. Ghezzisati, usiamo la parola giusta, chiamiamo le cose con il loro nome, non è che hanno rischiato, l'hanno già fatto, perché li avevano già messi nelle stanze diverse dai loro compagni. Non è solo il caso di Lodi, ce ne sono anche altri. Senza tenere conto della frustrazione dei bambini, queste sono delle etichette che porteranno sempre avanti, perché anche mangiare a mensa rientra nel percorso di educazione alimentare, quindi rientra anche nel percorso dell'orario scolastico, quindi hanno tolto anche a questi bambini questo momento di socializzazione. Per fortuna, come dico sempre, c'è questa parte dell'Italia che è attenta a quella che sta succedendo. In due giorni hanno risolto la questione, facendo un modo che non soltanto i bambini rientrassero a mangiare con i loro compagni, ma hanno dimostrato che si può, si possono risolvere le cose in un altro modo. Comunque si è parlato di Lodi, ma questa questione bisogna tenere gli occhi aperti perché stanno succedendo, perché tanti genitori mi stanno dicendo che ci stanno chiedendo questo documento, non sappiamo neanche dove dobbiamo andare a prenderlo. Un conto è quando uno fa la richiesta per la Casa Popolare, gli si chiede tutta la documentazione, ma per quanto riguarda il trasporto scolastico e la mensa, io penso che non sia una cosa sostenibile, perché i bambini hanno bisogno di essere tutelati, garantiti, non devono pagare le cose che stanno mettendo su tutti questi sindaci nostri. Questo è un tema aperto, perché la legge c'è, anche se poi le maglie sono state applicate in una maniera allargata, poi è stata proprio la sindaca di Cascina, tra l'altro anche qualche giorno fa, nell'ambito della festa dei 30 anni di Repubblica Firenze, a citare la legge e dire che io mi sono limitata ad applicare la legge, questo è un po' il tema per cui in qualche modo si cerca di essere ferrei sull'applicazione di una legge, che però fino ad oggi in qualche modo aveva degli esiti diversi. Però lei ha dimenticato che la legge italiana permette a tutti i bambini, anche quando i genitori non hanno i documenti, di essere inseriti nelle scuole, quando arrivano nel territorio italiano, quindi noi ci appogliamo su questa legge e ci piace di più. Allora, grazie mille a D&I per essere stata con noi, in bocca al lupo per la giornata del 27, con la manifestazione Il Colore del Rispetto, lo ripetiamo alle ore 15 in Piazza della Resistenza Scandicci, grazie mille anche a Mauro Perini della Waterlight Foundation per essere stato con noi. Ce l'ho 30 secondi? Felicissimo. Mi sembra il minimo che la comunità di Firenze potesse fare nei confronti della comunità senegalese, dato quello che è successo in questi anni. È vero, è vero. Ne abbiamo parlato anche spesso, anche proprio con D&I, la comunità senegalese purtroppo è il centro di casi drammatici di... Allucinanti. Sì, allucinanti e con la presenza ingente, insomma, di persone di etnia senegalese nella nostra città era il minimo, come giustamente ha sottolineato Mauro Perini. Grazie entrambi per essere stati con noi, grazie a tutti per averci seguito da casa, Telegram termina qui, ci vediamo domani. Buonasera a tutti. Grazie a tutti.